Ed eccoci qua con un nuovissimo video e nuovissime, importanti novità di questo sito web ragazzi, veramente importanti. Un sito in cui ti regalo esattamente 600 TRX, 50 euro in modo totalmente gratis all'iscrizione, serio e pagante tutti i giorni, tutti mi stanno ringraziando, quindi sono contento di ogni settimana di fare un piccolo aggiornamento importante per vedere l'andamento che me l'hanno richiesto in tanti. Andiamo a vedere l'andamento del mercato e di come crearsi una rendita passiva in TRX attraverso un account Binance o altri account, va bene, anche tutti quelli che sopportano TRX. Ci sono un sacco di domande, Coinbase va bene? No, Coinbase non va bene perché non sopporta TRX. Dovete avere un wallet tipo Trust Wallet, Metamask, tutti quelli che sopportano TRX vanno bene, se no non vanno bene, ok? Ok, detto questo ragazzi l'andamento del mercato più o meno è abbastanza instabile, come sempre anche oggi sempre instabile ragazzi. Tutte le criptomonete sono scese più o meno dal 10 al 5% a parte qualche luna. Come vedete ragazzi la nostra criptomoneta in cui andiamo a minare esattamente in questo sito è in 22esima posizione, ha esattamente ragazzi ancora stabile più o meno a 70 centesimi e quindi vi raccomando ragazzi la cosa più importante in un cloud mining di TRX che voi andate a minare esattamente TRX. I TRX ragazzi non scendono più di tanto perché è quasi una stable coin, quindi veramente ottimo ragazzi anche minare TRX. Quindi veramente abbastanza sicuro che più o meno uscita tra i 70, 80, 90, 10 centesimi e più di lì ragazzi più o meno non scende quasi mai. Spieghiamo che il mondo delle criptomonete in questi giorni, ora ovviamente ragazzi sabato e domenica sono sceso un po', vediamo nel corso dei giorni ragazzi che se risalgono. Speriamo, speriamo. Allora andiamo a fare un piccolo aggiornamento, il sito in questione si chiama moneyx.in, è da circa un mese, quant'è? Un mese passa che lo sto usando, serio e pagante, ragazzi tutti i giorni arrivano soldi a me e a tutti quelli che mi sono iscritti sotto, quindi veramente sono veramente contento che questo sito vi piaccia, è un sito veramente che dà soddisfazioni. Cosa potete fare se siete nuovi? Link in descrizione qui in basso, link sul nostro canale Telegram, attraverso i miei link dovete accedere a questa pagina, attraverso i miei link riceverete questi 50 euro, più o meno 600 TRX in modo totalmente gratis, vi ricordo ragazzi sono 600 TRX, più o meno dico 50 euro perché ovviamente ragazzi quando l'ho fatto 600 TRX valendo 50 euro, ora che sono un po' scesi varranno 40, non lo so ragazzi ora quanto valgono, comunque più o meno riceverete questi soldi gratuitamente attraverso i miei link. Non dovete fare altro ragazzi che mettere numero, password e tutto il resto, una volta che entrate mi raccomando ricordate sempre il numero, password che entrate sempre, il numero di telefono, dovete avere questo codice qua per ricevere 600 TRX, quindi 701 49 29, fate qui, adesso siete a posto, fate sign up, non vi sto a vedere come funziona il tutto, comunque ho fatto tipo un video a settimana anche due ragazzi perché sta super piattaforma, attualmente ho fatto 7000 dollari di ragazzi in TRX attraverso quei 600 TRX, io sono partito con 600 TRX come voi, attraverso REF, attraverso una serie di passaggi sono arrivato a 7000, ora tutti i giorni attraverso questo conto faccio il 5% al giorno, in un futuro se questo sito andrà bene come credo, questi soldi ragazzi quando investirò tanto mi ritornano indietro, attualmente sto ritirando col mio portafoglio di 350 TRX, quindi faccio il 3% su questo investimento, quindi tutti i giorni prelievo questi TRX, in più ragazzi il referral link, tutta la rete che ho creato, mi danno veramente una grande soddisfazione, tipo in saccoccia per ora ho 6 dollari, no, ho tipo 6 o 7 euro ragazzi già qui che posso ritirare, e nulla, questo è quanto. Allora andiamo a vedere la cosa importante, la novità che volevo far vedere, attraverso che vi dico poche volte che è la cosa più importante, se andiamo alla sezione platform activity ragazzi, qui vedete tutto come funziona il sito, attualmente tutto, se avete qualche dubbio, domanda, ci sono, oltre a chiedere almeno il gruppo telegram, quindi scrivete, c'è una sequenza di numeri che rispondono immediatamente, c'è un gruppo telegram tutti affiatati, che sono tutti contenti, quindi iscrivetevi a tutti questi, in più, la cosa che mi hanno spiegato, cioè in tanti mi hanno chiesto di spiegare questa cosa, che vogliono fare intraprendere anche loro un percorso attraverso i TRX, cioè attraverso il team, per ogni persona che portate, per quello io sto guadagnando tanto, per ogni persona portate di livello 1 ragazzi, quindi la prima persona che si iscrive attraverso l'inverifera link, riceve una commissione del 10%, quindi pensate ragazzi che il mio team veramente si parla di 1000 persone sotto, cioè se una persona già mette 100 euro su questo sito, riceve subito 10 euro in TRX, quindi sono veramente buone, il secondo livello 5%, il terzo livello 2%, quindi avete un massimale di 17% suddiviso in 1000 persone nel mio caso, se voi invitate 5-10 persone, quello che sia, dipende da uno quanto investe, vi fate veramente una rendita passiva tutti i giorni, in più ragazzi riceverete 10 TRX per ogni 100 TRX depositati, quindi veramente buono, livello 2 100 TRX, 5 TRX e così via, quindi avete una rendita passiva molto alta, il più 3% è questo, quindi note super positive ragazzi, super sito che sta funzionando alla grande, non vi voglio dilungare troppo ragazzi, andiamo a vedere come ritirare, come ritirare ragazzi l'ho sempre fatto vedere, avete il conto giornaliero, potete ritirare ogni giorno ragazzi quando volete, conto base, conto giornaliero, andiamo a vedere le prove di pagamento, sono tutte le prove di pagamento, quasi tutte ragazzi, tutti i giorni sto ritirando 10.5 TRX che è il 3% del mio estimento, l'ho recuperato molto tempo fa, quindi sono già contento, ogni giorno ragazzi poi prelevo attraverso 65 TRX, che ne so, 125 in 2 attraverso la rete, quindi faccio un po' di rete e faccio un po' di TRX normale, quindi sta andando molto bene, tutti i giorni si preleva, tutti i giorni sono contenti, sei ripetente. Allora ragazzi, piccolo aggiornamento, vi volevo far vedere più che altro l'importanza della rete, che sto guadagnando molto di più ovviamente, se non avete rete ragazzi comunque si guadagna un voto, perché il 3% giornaliero, mi hanno chiesto 3% giornaliero, mi hanno recuperato l'investimento in un mese circa, quindi veramente ottimo, e nulla ragazzi, grazie per aver seguito, mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanella, e ci mettiamo al prossimo video, ciao!